La stagione comincia ad entrare nel vivo, i punti cominciano ad essere sempre più pesanti ed è per questa ragione che bisogna ridurre al minimo i passi falsi per evitare inciampi problematici lungo il proprio cammino. Il discorso vale per il Casal Bordino reduce da due sconfitte consecutive che va a caccia del successo casalingo che manca dallo scorso 26 settembre, ma vale anche per il 2000 a calcio Montesilvano avversario di turno e desideroso di riscatto dopo il pesante scivolone interno con il Giulianova. La gara stenta a decollare e il primo episodio da annotare sul nostro taccuino è una flebile protesta ospite per un presunto fallo in area di Falcone ai danni dell'avanzato Cavallucci, ma il signor Carluccio non ravvisa nessun tipo di irregolarità. I padroni di casa si fanno vedere dalle parti di Ubertini con la girata dal limite di Della Penna, facile preda dell'estremo ospite e con il successivo piazzato dal limite di Galliano. In entrambi i casi l'estremo ospite risponde presente ed è decisivo al 25esimo quando si oppone alla stoccata ravvicinata di Moschini che vanifica l'ottimo lavoro propedeutico di Mangiacasale sul versante di destra. Tano rimane sostanzialmente inoperoso, il destino sembra prendere teoricamente una buona piega per i padroni di casa che quasi a ridosso della mezz'ora possono giocare in superiorità numerica a causa del cartellino rosso rimediato da San Maciccia allontanato per il brutto fallo ai danni di Galliano, decisione ineccepibile quella presa dal direttore di gara, contrariamente all'atteggiamento dei casalesi che da questo momento diventeranno una macchina inceppata e non avranno possibilità concrete per approfittare dell'inattesa superiorità fino all'intervallo che certifica il nulla di fatto e anzi alla ripresa dei giochi il risultato va a variare ma sono i montesilvanesi a passare all'incasso grazie al calcio di rigore concesso in seguito all'intervento irregolare di Sexu Marrone. Dal dischetto Tano intuisce la traiettoria ma non può impedire al tiro di Maiorani di terminare la sua corsa in fondo al sacco. I giallorossi accennano una timida reazione con l'irruzione in area di Giuliano poco preciso nella finalizzazione più insidiosa indubbiamente l'occasione successiva ma Marcedula salva provvidenzialmente e nega la gioia del pareggio a Della Penna. Il pressing infruttuoso della squadra locale prosegue anche nelle fasi successive con la girata in area dell'avanzato La Penna fuori misura. Prima della mezz'ora sono i giallorossi a invocare il penalty in seguito alla spinta in area di Marcedula ai danni di Della Penna ma Carluccio fa continuare tra le proteste casalesi. Alla mezz'ora Trisi prova la soluzione dalla distanza senza particolari clamori. Nuove proteste casalesi al trentunesimo ma stavolta il direttore di gara dice che il fallo è di Mangiacasale e assegna un piazzato alla truppa ospite. Il Montesilvano è indubbiamente più cinico e al secondo vero affondo dalle parti di Tano va a segno con il neoentrato di Primio che approfitta dell'ottimo suggerimento di Vedovato abile a sua volta ad approfittare della dormita collettiva del pacchetto arretrato casalese. Il sipario sull'esito conclusivo della sfida non si abbassa definitivamente visto che al trentanovesimo è il Casal Bordino a beneficiare di un calcio di rigore in seguito all'intervento falloso di Marcedula sul neoentrato Budano e Della Penna rianima i suoi realizzando il conseguente tiro dagli undici metri. Ma non ci sarà tempo per completare la rimonta visto che prima del novantesimo l'unico acuto dei locali è rappresentato dalla conclusione infruttuosa di Budano e prima del triplice fischio arriva il rosso diretto anche per Tano mandato anzitempo sotto la doccia per proteste nei confronti dell'arbitro. Patron Santoro involontariamente lei ha appena anticipato quello che volevo chiederle io il Casal Bordino che ha giocato gran parte della gara in superiorità numerica e paradossalmente è proprio da quel momento che la squadra ha cominciato a girare male. Ciao Antonio sì esatto lo dicevamo a microfoni spenti effettivamente è un paradosso ma è così loro si sono chiusi c'è da dire che insomma l'espulsione è proprio intervenuta negli ultimi minuti del primo tempo e appena siamo rientrati in casa in campo c'è stato un calcio di rigore immediatamente che ci ha penalizzati almeno dal punto di vista del morale oltre che dal punteggio. Poi sì ci siamo messi all'arma bianca ad attaccare abbiamo preso il secondo gol come il nostro solito in contropiede la cosa clamorosa è che purtroppo dati alla mano siamo la difesa più battuta rispetto ai tiri subiti quindi questo è un dato allarmante è un dato che ci deve far riflettere è un dato sul quale dobbiamo lavorare e dobbiamo lavorare sui numeri non possiamo lavorare sulle sensazioni quindi testa bassa già da domani e a pensare alla prossima partita. Davide Antignani solitamente ti vediamo sempre un po' recriminare su qualcosa in altre gare precedenti oggi invece è filato tutto liscio. Anche oggi si è una messa con un episodio dubbio a sfavore nostro anche oggi abbiamo giocato in dieci però devo fare i complimenti questa volta faccio i complimenti all'arbitro dico la verità perché ha arbitrato in maniera corretta a prescindere da tutto il rigore per loro c'era il rigore per noi c'era e un applauso grande lo devo fare ai miei ragazzi perché siamo rientrati negli spogliatoi abbiamo raddoppiato se non triplicato le forze io purtroppo sono stato ripetitivo noi giochiamo con tanti under e avete visto quello che vuol dire quando metti un 2003 là davanti se ne vada solo giustamente dopo gli devi correre dietro sono felicissimo per loro perché stanno lavorando tutti i giorni mai senza senza fare assenze senza alibi senza nulla poi alla fine quello che verrà noi prendiamo però oggi siamo felicissimi questo risultato e da domani penseremo a mercoledì